Buongiorno a tutti, sono Andrea Ugenti e sono molto contento di partecipare a questa iniziativa pensata dal mio allievo e amico Andrea Tirincanti, che mi ha sollecitato a raccontare i libri che mi hanno avvicinato all'archeologia. Quindi ripercorrerò con voi l'inizio di questa mia passione, che poi è diventata per mia fortuna anche il mio lavoro, e faremo questo percorso in cinque libri. Allora, cominciamo con una storia di molti anni fa. Dovete sapere che io ero molto appassionato di una serie tv che si chiamava UFO, in cui le protagoniste avevano tutte i capelli viola e c'erano questi astronavi che si chiamavano intercettori, che mi facevano impazzire. Era una delle cose più belle per me in quel momento. Poi un giorno, mentre sto vedendo UFO, arriva mio padre e tira fuori un libro. Questo. Civiltà sepolte di Ceram. Questo è un libro di archeologia scritto da un giornalista molto in gamba, che parla di Schliemann, Champollion, di Tutankhamon, di Ninive, di Palenque, che insomma racconta alcune delle più straordinarie scoperte archeologiche con grande capacità affabulatoria, da grande giornalista qual era. E insomma mio padre mi dà questo libro e io non smetto più di leggerlo. E meno male che non ho cercato di tenere insieme queste due passioni, cioè l'archeologia e gli UFO, perché se no oggi sarei un fantarcheologo, forse sarei diventato un appassionato di Victor Von Hagen e forse farei la televisione vestito di una sariana, sproloquiando e farneticando su alieni costruttori di piramidi. Ecco, per fortuna ha vinto Ceram, non è andata così, e quindi io mi sono avvicinato a un'archeologia tutta fatta di templi, di piramidi, di mummie, il cui risultato, il risultato di tutto questo è stato che mi sono messo in testa che dovevo diventare un egittologo. Quindi io per anni, prima di andare all'università, ho pensato che sarei diventato un egittologo, però a un certo punto poi faccio un viaggio in Grecia, quindi mi tolgo questo copricapo egizio, faccio un viaggio in Grecia e torno affolgorato da templi e sculture. E a quel punto la mia attenzione converge su due libri molto diversi tra loro, imparentati ma molto diversi tra loro. Il primo è questo, Introduzione all'archeologia di Ranuccio Bianchi Bandinelli, un libro che parla di... in realtà questo nella copertina non si vede, ma il vero titolo è Introduzione all'archeologia classica come storia dell'arte antica, che poi è il modo in cui Bianchi Bandinelli la interpretava. E questo libro però viene insieme a un altro, anche questo lo trovo a casa, Andrea Carandini, archeologia e cultura materiale. E questo è un libro che mi ha affascinato fin dall'inizio, anche se non ci ho capito sostanzialmente niente, ero troppo piccolo, perché è un libro che faceva due cose insieme, e cioè parlava di archeologia ma ne parlava con un approccio di sinistra, con un approccio marxista, e io ero molto ideologicamente marcato in quella direzione, devo riconoscere che lo sono ancora, ma il fatto ecco che in più lui portasse l'attenzione anche sugli oggetti appunto della cultura materiale e che un capitolo si intitolasse addirittura Storia di una Zuppiera, ecco tutto questo mi fece riflettere sul fatto che l'archeologia forse non era soltanto templi, statue e storia dell'arte, ma che si poteva avere un altro approccio appunto con il passato. Con tutto questo marasma di stimoli in testa, inizio l'università e riaffiora la vecchia passione, vorrei fare l'egittologo, ma poi vengo per vari motivi indirizzato e scelgo di indirizzarmi verso il Medioevo. E' un'altra grande passione della mia vita che prosegue tutt'oggi e a quel punto due sono i libri che mi hanno confermato in questa scelta. Il primo è un libro bellissimo, ed è Roma, profilo di una città, di Richard Krautheimer, un libro che è bello tutto, è bello non solo nei contenuti, è bello persino nella carta con cui è fatto. Non so se si trova ancora, non so se lo vendono ancora, è un libro del 1980, tradotto in italiano l'anno dopo, ed è un libro che per l'epoca fa un'operazione molto interessante, perché dopo decenni in cui di Roma si erano raccontate solo le fasi antiche e soprattutto quelle di età imperiale, Krautheimer riesce a mettere in piedi una storia a cavallo tra l'archeologia e la storia dell'arte di Roma, che inizia nel 312, cioè l'anno della battaglia di Ponte Milvio, e arriva fino al 1308, cioè l'anno in cui i papi decidono di andare ad Avignone. Questo per me ha significato l'apertura di un nuovo orizzonte, cioè appunto il fatto che si potesse studiare la mia città con un'attenzione particolare al Medioevo. Da allora sono cambiate molte cose, sono stati fatti molti scavi a Roma, il libro di Krautheimer per molti aspetti ormai lo consideriamo superato, ma per altri è ancora un bellissimo libro, che è un grande piacere leggere, la grande prova di un grandissimo studioso. E poi c'è l'ultimo libro, quello che ha definitivamente consolidato in me l'idea che si potesse fare un'archeologia del Medioevo e che fosse una cosa interessante. Non è un libro, lo devo dire, non è un libro bello come quello di Krautheimer, però è un libro fatto bene, è un libro che fa il punto sulla situazione, ed è I Longobardi in Italia di Alessandra Melucco Vaccaro, una studiosa che purtroppo è scomparsa, un libro che regala agli italiani una sintesi archeologica della presenza dei Longobardi in Italia. Finalmente un popolo cosiddetto barbarico, visto con gli occhi dell'archeologo, che racconta ogni dettaglio della sua permanenza nel nostro paese, e questo per me ha voluto dire misurarmi con un'archeologia medievale matura, intelligente e avanzata, e questo quindi ha segnato una vera e propria mutazione genetica dalla quale sono uscito quello che sono adesso, e cioè un archeologo medievista. Buona giornata a tutti.